Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Allora siamo all'ultimo video di questo 2023. Di solito ci si augura sempre che l'anno nuovo che sta per arrivare sia migliore o meno drammatico di quello che abbiamo trascorso, ma dobbiamo onestamente dire che se andiamo a ritrosi negli ultimi anni è stato invece un escalation di drammaticità, di situazioni che non avremmo voluto vivere, che spesso ci hanno colpito in maniera collettiva, come è stata la storia del Covid, come sono le guerre, ma anche situazioni che colpiscono i cittadini per i clamorosi disservizi del nostro paese. Ho voluto e voglio chiudere quest'anno con le parole di Netanyahu, che sono molto significative, che in un'intervista ieri parlava di guerra difensiva e parlava di giustizia e moralità. Quando sappiamo perfettamente, perché ormai siamo in un mondo globale dove tutte le notizie, ovviamente anche nel dettaglio ci arrivano, sappiamo essere totalmente falso e che invece Netanyahu è uno dei più brutali e crudeli dittatori a questo punto, perché voglio dire non è che uno è solo dittatore se sottomette il proprio popolo, secondo me, anche se sottomette altri popoli in quella maniera, nella maniera in cui lui lo sta facendo cercando di cancellare. Francamente io non vedo dove ci sia questa moralità e questa giustizia. Abbiamo visto delle immagini ufficiali, addirittura con palestinesi denudati, scortati, cioè delle cose inverosimili e si parla, ci sono delle accuse da parte di altri paesi addirittura di stupri commessi da parte di militari. Tutte cose, per carità, che devono essere verificate, non so se verranno mai verificate, credo di no, perché altrimenti non ci sarebbe il continuo silenzio da parte dell'Occidente di fronte a questo tipo di azioni. Tra l'altro, sempre parlando di guerra, abbiamo sempre detto equilibriamo le cose, sia dal punto di vista degli orrori che vengono commessi, ma anche dei rapporti di forza. C'è stata una reazione da parte dell'Ucraina all'attacco dei russi sulla città di Belgorod, al confine tra Ucraina e Russia, dove hanno perso la vita 20 persone e 100 feriti. Ecco, questo dimostra che chiaramente esiste ancora la possibilità, esiste ancora la forza da parte degli ucraini, di reagire, ma grande domanda, perché questo è un fatto positivo? Cioè che si innalzino i toni e il conflitto sia sempre più aspro è un fatto così da sposare, da applaudire? Credo proprio di no, sarebbe esattamente giusto il contrario, ma questo dipende solamente da un uomo, lo sappiamo, da colui che ha scatenato questa guerra, che si chiama Joe Biden e gli Stati Uniti, perché Zelensky è solamente un fantoccio in mano agli Stati Uniti d'America. Ma torniamo a Netanyahu, no? Cioè, tra l'altro, Netanyahu, e lo stanno sottolineando comunque, e questo è giusto dirlo, molti uomini di cultura, molti uomini in Israele, che stanno attaccando Netanyahu, è stato il suo stesso ministro Cohen a farlo ed è stato allontanato per questo, quindi, altro che democrazia, no? Voglio dire, quando si commettono queste cose e non si permettono ad altri di esprimere delle idee diverse da quelle che magari porti avanti tu, io non credo che si possa parlare di democrazia. Ma stavo dicendo, questo porta molto, una situazione molto grave nei confronti degli stessi ebrei. Poi non dobbiamo sorprenderci se ci sono persone che fanno di tutto l'erba un fascio e iniziano ad attaccare gli ebrei. Ripeto, in questo momento io credo che in Israele ci sia una situazione anche internamente molto drammatica, di grandissima divisione, cioè di quelli che appoggiano l'azione di Netanyahu e vorrebbero vi staradere al suolo la Palestina, ed altri che invece vogliono che ci sia una strategia totalmente diversa, che porti ad una vera pace, ad una tregua. Staremo a vedere, è chiaro, ci dobbiamo augurare nel 2024 che vinca questa parte, ma è di tutta evidenza che fin quando ci sarà Netanyahu questo non succederà e il fatto che ci sia Netanyahu è colpa degli israeliani, della maggioranza perlomeno degli israeliani che l'hanno votato, perché questo bisogna sottolinearlo. Comunque altro, ripeto, che moralità e giustizia, moralità e giustizia sono un'altra cosa, quello che non sta utilizzando Netanyahu. Io a questo punto vi saluto, vi auguro comunque un 2024 meno drammatico, ecco sarebbe già importante che fosse meno drammatico e che la situazione anche delle famiglie si potesse, non so in quale maniera sinceramente, risollevare, perché grande ottimismo non ci può essere dopo tutti questi anni di sofferenza. Con questo vi lascio, vi auguro un buon capodanno e ci vediamo nel 2024.